Ciao, qualche giorno fa ho compiuto xx anni e siccome è stato un compleanno importante ho fatto un piccolo punto della situazione di quelli che si fanno in queste occasioni e mi sono stupita nel rendermi conto di essere riuscita nel corso degli anni a mantenere un buon contatto con il mio nucleo interiore profondo, non che sia stato facile anzi. Per questo ho provato una grande gratitudine e ho deciso di condividere con gli amici di youtube le strategie interiori che mi hanno aiutata durante il percorso. Perché è facile perdere il contatto con il nostro nucleo interiore, spesso non sappiamo come avere cura dei nostri sentimenti e questo può portare a scivolare in una spirale che oscilla tra vittimismo e aggressività, depressione e ansia. Insomma vivere poco sereno non vi pare? Ma è ovvio, bisogna volersi bene, tutti si vogliono bene, chi è che non si vuole bene? Io mi voglio bene. Ma sei proprio sicura? Ho lavorato tanto per arrivare a capire e a rendere semplice quello che vi sto per dire. La cultura occidentale non ci insegna quali sono e non ci porta a praticare i tre fondamentali pilastri del volersi bene, ovvero ascoltare i nostri sentimenti profondi, ascoltare le nostre vere esigenze e accettarci così come siamo. Può sembrare non semplice e in effetti per molti la questione è complessa, lo capisco. Ci sarebbero molte cose da dire a questo proposito ma oggi voglio darvi un consiglio veramente efficace per fare un primo passo o un passo ancora più profondo verso l'amore per se stessi. È un consiglio semplice ma rivoluzionario perché i concetti più semplici sono i più profondi e conducono verso la vera chiarezza. Il consiglio è questo, smetti di criticarti. Tutti noi nella vita riusciamo in alcune cose molto bene e meno in altre e le cose fatte bene non riescono quasi mai al primo colpo e quanto bisogna affaticare. Inoltre non sempre facciamo o diciamo la cosa giusta, questo è inevitabile ma per questo non bisogna sentirsi inadeguati e giudicarsi male. La cosa fondamentale è fare le cose al meglio delle nostre possibilità. Come ho spiegato in questo mio vlog? Si può gioire durante il percorso non solo al traguardo e il percorso non è mai lineare. Credi in te stesso perché se non sarai tu il primo a farlo come potranno farlo gli altri? Il giudizio poco amorevole di sé spesso è una scusa per non agire. Quando ti viene un pensiero o un giudizio negativo su te stesso formula il pensiero contrario anzi se puoi dillo ad alta voce. Prima o poi i giudizi negativi si stancheranno di essere contraddetti ogni volta e non si presenteranno più nella tua mente. Invece continua a lodare te stesso comunque vadano le cose. Tu ce la metti tutta. Se la critica deprime la lode stimola. Ci sono tanti modi per volersi bene e uno di questi è avere cura della propria salute in modo naturale. E sul mio canale trovi tanti consigli utili per la tua salute e per conoscerli tutti è facile. Basta iscriversi con un click così. Ultima considerazione. Mi raccomando volersi bene non vuol dire essere indulgenti con se stessi e avere la scusa per alimentare i propri vizi. Vuol dire stare bene con noi stessi, capire che abbiamo il dovere di alimentare la nostra felicità interiore e contribuire a creare un ambiente positivo intorno a noi. Non siamo qui per compiacere gli altri o per vivere la nostra vita a modo loro. Ognuno di noi deve vivere la sua vita percorrendo il suo cammino. Siamo qui per realizzarci come persone, per irradiare amore profondo, per imparare a crescere, per ricevere e dare comprensione e sostegno sincero. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi è piaciuto questo video? Condividetelo con i vostri amici e sui vostri social perché ci sono tante persone che vogliono volersi più bene. E nell'info box qui sotto trovate l'indirizzo del mio sito dove leggere tanti consigli per il vostro benessere. E ci vediamo alla prossima naturalmente. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!